Come superare l'ansia da prestazione L'ansia da prestazione è un problema comune, tuttavia ci sono alcune tecniche che possono aiutare a superare il problema. Numero 1. Preparati bene La preparazione è fondamentale per ridurre l'ansia da prestazione. Fai un piccolo riscaldamento pre-live e ripassa le canzoni fino a quando ti sentirai sicuro e preparato. Numero 2. Usa la respirazione La respirazione può aiutare a ridurre lo stress e l'ansia. Prima di salire sul palco, cerca di rilassare il tuo respiro. Inspira profondamente dal naso ed espira lentamente dalla bocca. Numero 3. Cambia il tuo atteggiamento mentale Invece di concentrarti sull'ansia e sulla paura di sbagliare, prova a concentrarti sui momenti di piacere che puoi provare durante la tua performance. Ah, dimenticavo! Portati il panino! Musica 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 Grazie a tutti.